La politica sul Monese sta affrontando una fase che necessita di un dialogo maggiore sui temi di interesse per la città. E' il monito lanciato dal gruppo Pronti per Cambiare che in un incontro nella giornata di ieri ha analizzato l'attuale momento. La situazione potrebbe essere migliore, ha affermato Valerio Gianandrea, perché ci vorrebbe un'azione più efficace in quanto abbiamo una serie di cose da portare avanti. Cosa significa in termini politici? Potrebbe essere inteso come un messaggio al Partito Democratico da non sottovalutare per la futura tenuta della maggioranza. Niente di pericoloso avverte Gianandrea perché noi non siamo il PD che fa le conferenze stampa contro il sindaco, siamo però nell'avviso che ci vuole una dinamica nuova e migliore per un'azione amministrativa più florida. Valerio Gianandrea non conferma le voci di corridoio che parlano di un documento come un vero e proprio out-out al sindaco Peppino Ranelli affinché ridimensioni il gruppo del PD che non darebbe spazio agli altri della maggioranza. Documento o non documento, la situazione non sembra tranquilla e qualcuno starebbe pensando di isolare il PD per creare una maggioranza alternativa. Una fase molto imbarazzante e difficile da affrontare per il primo cittadino. Il capogruppo del PD Alessio Di Masci interpellato sulla questione afferma se ci sono dei problemi il primo interlocutore deve essere il PD cioè il partito del sindaco verso il quale non si deve avere scetticismo perché noi abbiamo dimostrato che con le mediazioni siamo sempre riusciti a trovare la soluzione ai vari problemi. Certo prosegue Di Masci ci sono questioni specifiche come la manutenzione stradale, il verde pubblico e le menze scolastiche che andavano gestite meglio ma anziché esprimere malumori bisogna discutere insieme. Sull'aspetto politico invece non va toccato assolutamente nulla. Immaginate voi una maggioranza senza il PD si chiede Di Masci? Non esiste una cosa del genere nel rispetto della coalizione di centro-sinistra. L'intenzione di Peppino Radalli è quella di convocare un vertice di maggioranza che a sentire Valerio Gianandrea dovrebbe tenersi lunedì prossimo ma Alessio Di Masci precisa che il sindaco ha chiesto solo la disponibilità dei partiti ma per lunedì conclude non lo so se ci saremo tutti non è detto quindi che il vertice si terrà